L'assegnazione di fondi per l'adeguamento sismico dell'ITI di Pratola-Peligna, fondi per il risanamento stradale del tratto Canzano-Pesco-Costanzo, sono stati tra le decisioni del Consiglio provinciale riunito ieri mattina. I fondi per lavori di adeguamento sismico dell'ITI Leonardo da Vinci di Pratola sono d'importo complessivo di 193 mila euro, mentre la realizzazione di lavori di risanamento stradale del tratto Canzano-Pesco-Costanzo sarà prevista una spesa complessiva di 960 mila euro. È stato un proficuo Consiglio provinciale, dichiarato il Presidente Angelo Caruso. Abbiamo prontamente affrontato le problematiche relative all'ITI di Pratola, ritenuta da tutti una questione di primaria importanza. L'approvazione all'unanimità di tutti i punti all'ordine del giorno dimostra ancora una volta l'unione di intenti di questa amministrazione. Intanto questa sera alle 21 la proposta di una commissione d'inchiesta sull'ITI avanzata dal consigliere Vincenzo Margiotta approderà sul tavolo del Consiglio Comunale di Pratola Peligna. Una commissione improponibile secondo il sindaco di Nino, poiché fa riferimento a un plesso scolastico di proprietà di altro ente.